E' di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato e domenica in Salento. Ad essere coinvolte nel sinistro avvenuto alle 4.30 lungo la strada provinciale 206 che collega Ugento e Melissano sono state due auto, una Lancia Ypsilon Elefantino e una Fiat Panda. Da una prima ricostruzione sembra che la Lancia fosse ferma quando è sopraggiunta la Panda, sulla quale viaggiavano due uomini originari di Presiccia Aquarica. Per uno dei due è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto al trasferimento del ferito presso l'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli per accertamenti a causa dei forti dolori accusati al petto. Due erano anche le persone a bordo del secondo veicolo coinvolto una Lancia Ypsilon Elefantino. Si tratta di una coppia di 38 anni, anche loro originari di Presiccia Aquarica, le cui condizioni in seguito al sinistro hanno destato sin da subito preoccupazione. La ragazza, infatti, dopo le prime cure sul posto è stata trasportata direttamente presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per il ragazzo, invece, dopo un primo trasferimento presso il nosocomio di Casarano, ne è stato disposto un secondo presso il presidio del capoluogo Salentino a causa del grave trauma toracico riportato e delle ferite riscontrate per tutto il corpo. Dopo alcune ore dall'arrivo in ospedale, il 38enne è deceduto. La salma, intanto, è stata trasferita presso l'obitorio del Vito Fazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Oltre ai militari della radiomobile di Casarano erano presenti sul posto anche i colleghi della stazione di Melissano per la viabilità e i rilievi che saranno utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.